Ciao e benvenuto, benvenuta. Oggi voglio fare un esperimento, voglio parlarti di tutto quello, o quasi tutto quello che devi sapere riguardo alla teoria musicale. Impresa impossibile, vedremo, in ogni caso sarà un esperimento divertente. Possiamo dividere gli argomenti musicali in due grandi, grandi gruppi. Uno che è quello dove troviamo tutti i principi della musica, le regole, i mattoni fondamentali, detto grammatica musicale o teoria musicale. L'altro dove troviamo questi principi messi in pratica, e quindi questa è la pratica musicale, la composizione, l'esecuzione allo strumento. Oggi ci concentriamo sulla teoria musicale, ma prima di tutto, sigla. Per cominciare, questa qui è una nota. Come probabilmente saprai, il suono è generato da una vibrazione. Più la vibrazione è veloce, più il suono è acuto. Più la vibrazione è lenta, più il suono è basso. Quindi diciamo, ad esempio, che questa nota vibri due, ok? Raddoppiando il numero di queste vibrazioni, quindi la vibrazione è più veloce, da due passo a quattro, avrò quest'altra nota, un suono più acuto, decisamente più acuto. Questa nota vibra quattro, raddoppiamo ancora, diciamo che vibri otto. Avremo quest'altra nota, ancora più acuta. Facciamo ancora lo stesso esempio al contrario. Prendiamo la nostra nota che vibra quattro, questa qui. Se di mezzo il numero di vibrazioni, cioè rallenta il numero di vibrazioni, quindi da quattro andrò a due, avrò questa nota, ok? Quindi più vibrazioni, vibrazione è più alta, più veloce, nota più acuta. Vibrazione è più lenta, più il suono è basso. Vi direi di procedere. Andiamo sul pianoforte, perché voglio farti vedere come il pianoforte goda di una certa simmetria. Guarda, abbiamo due tasti neri, tre neri, due più tre, due più tre, due più tre, sempre così. Sotto a questi cinque tasti neri abbiamo una sequenza invece di sette tasti bianchi, vedi uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Quindi abbiamo cinque tasti neri e sette bianchi. Tutte le volte che raddoppio la frequenza di una nota, questo schema si ripropone uguale. Che cosa vuol dire? Guarda. Questo è un do, diciamo che vibra uno. È all'inizio dello schema. Vedi due e tre e sette. Se io raddoppio la sua frequenza, cioè da uno la faccio vibrare due, qui, stessa nota, solo che raddoppio la frequenza, quindi la senti più acuta, ricomincia lo stesso schema, vedi? Due più tre. Raddoppiamo ancora. Questo vibra due, andiamo al do che vibra quattro. Guarda, due più tre e sette note bianche. Quindi questa sequenza si ripete sempre uguale, perché abbiamo sempre le stesse sette note più le alterazioni che dopo vedremo, che si ripetono a ottava sempre più alta. Quando salto da questa nota alla nota che ha la frequenza doppia, faccio appunto un salto di ottava. Perché? Perché fra questa nota e questa ci sono otto note. Guarda. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Vedi? Quindi questo schema si ripete uguale ogni volta che faccio un salto di otto note. Per esempio, mettiamoci qua. Questo è un sol. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Vedi? Gruppo di tre note. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Quindi trovo sempre nello stesso gruppo. Esistono diversi modi di dividere la musica. In questo caso abbiamo un modo per dodici, cioè sette tasti bianchi e cinque neri, che ora vediamo. Ma esiste un altro modo che è solo per sette, che è proprio della musica sacra e della musica sacra-sacrale. Questo genere musicale prende tutte le sue scale, quindi la sua linfa vitale, da un modo di dividere la musica per sette note, quindi solo i tasti bianchi. Ok? Quindi abbiamo visto che esiste una divisione del suono per sette note, ma ne esiste anche una per dodici. La divisione per dodici si utilizza nella musica moderna, in tutta la musica in sostanza che ascoltiamo per radio, ed è questa qui. Partiamo dal do e contiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici note. Questa divisione comprende quindi tutte le note bianche e tutte le note nere. Questa che tu ho appena suonato si chiama scala cromatica. Allora, la distanza fra una qualunque nota e la nota subito successiva o immediatamente precedente si chiama semitono. Quindi per esempio se da qui vado qui, un passettino, ho percorso un semitono ascendente. Se da qui torno indietro e vado qui, un passettino, ho percorso un semitono discendente. Facciamo un altro esempio, mettiamoci sul re. Se da qui vado qui, un passettino, ho percorso un semitono ascendente. Se da qui vado qui indietro, ho percorso un semitono discendente. Quindi ascendente sale, discendente scende. Quando è ascendente la nota diventa più acuta. Quando è discendente la nota diventa più grave o bassa. Se faccio due passettini, mettiamoci qua. Faccio uno e due, quindi da qui vado qui, scavallo la nota nera, quindi uno e due, farò la distanza di un tono ascendente. Se da qui invece faccio uno e due, ho fatto la distanza di un tono discendente. Facciamo un altro esempio. Da do faccio uno e due, un tono ascendente. Se invece da mi faccio uno e due, un tono discendente. Quindi ho un tono quando in mezzo ho sempre il tastino nero. Da qui a qui è un tono, 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 eccetera. Da tenere a mente, se non ho il tastino nero, vedi che c'è un punto della tastiera che si ripete in cui non ho, in realtà sono due, ma è il tasto nero. Fra il si e il do c'è sempre un semitono, fra il mi e il fa c'è sempre un semitono. È da imparare a memoria. Riassumiamo. Un passino, un semitono. Due passini, un tono. Per quello che ci è dato di sapere, fino al VI secolo d.C., la musica fu tramandata per via orale. Solo in quel periodo nacque l'esigenza di incominciare a scrivere la musica per tramandarla in maniera certa alle generazioni future. A risolvere questo problema ci pensò un sapiente di nome Boezio che assegnò ad ogni nota musicale una lettera dell'alfabeto. E quindi abbiamo la A per il La, la B per il Si, la C per il Do, la D per il Re, una E per il Mi, una F per il Fa e una G per il Sol. Questa notazione è attualmente adoperata nei paesi anglosassoni, quindi non è andata perduta. Quindi non è infrequente che tu possa trovare queste lettere all'interno di una tablatura per chitarra o come accordi sopra un testo cantato. Conviene quindi studiarla. Abbiamo poi un'altra notazione che fa riferimento invece al mondo latino, cioè quelli che utilizziamo noi europei. Bisogna attendere il XII secolo, quando Guido d'Arezzo, un monaco, inventore tra l'altro della mano guidoniana una tecnica memonica per permettere ai cantori di ricordare e leggere a prima vista le note, decise di prendere un inno, che era una preghiera, che diceva più o meno Signore, libera dal peccato i fedeli affinché le loro bocche possano cantare libere e meravigliose melodie. In latino il versetto è questo, fa' attenzione, ut queant laxis, re sonare fibris, mi raggestorum, fa muli tuorum, sol ve polluti, labi reatum, sancte Ioannes. In pratica le prime sillabe di ogni frase sono diventate le moderne note, ut re mi fa sola si, sancte Ioannes si sarebbe, ok? Ut più tardi, nel XVI secolo, venne poi sostituita da Do, perché era scomoda da cantare. Quindi di ottava in ottava, queste sette note, do re mi fa sol la si, do re mi fa sol la si do, e via dicendo, hanno questa origine qua, alquanto inusuale, alquanto misterioso diciamo. Bene, parlato dei tasti bianchi, andiamo a parlare di quelli neri e spostiamoci sulla tastiera. Allora, mettiamoci qua ad esempio, questo è un sol, facciamo un saltino di un semitono ascendente, quindi verso l'alto, vado a finire sul tasto nero, questo sarà sol diesis, cioè stesso nome della nota, solo che si aggiunge questo simbolino, il diesis, vedi? Quindi sol, sol diesis. Funziona così per tutte le note. Mi metto sul re, faccio un saltino ascendente, re diesis, ok? Ancora un altro esempio, la, saltino ascendente di un semitono, la diesis. Bene. Vediamo ora che succede se invece faccio un saltino discendente. Mi metto qua sul sol, faccio un salto discendente di un semitono, sol bemolle, questo simbolo qui si usa il bemolle. Lo aggiungo al nome della nota, mi metto qua re, faccio un saltino discendente di un semitono e mi trovo sul re bemolle, ok? Quindi funziona in questo modo. ti faccio vedere una cosa curiosa adesso. Mettiamoci sul sol. Facciamo un salto ascendente di un semitono, sol diesis abbiamo detto. Ora mettiamoci sul la. Facciamo un saltino discendente di un semitono, la bemolle. Come sta la faccenda? Una nota che ha, un tasto scusa che ha, due nomi diversi. Per risolverla in maniera semplice, diciamo che è come fare due strade diverse per arrivare nello stesso punto, va bene? E vale per tutte le note. Fa, fa diesis, sol, sol bemolle. Vedi? Questo è fa diesis e sol bemolle. Vale per tutti i tasti neri. Bene, da qui andiamo direttamente a parlare di una prima forma di musica strutturata, vale a dire la scala musicale. Una scala musicale è una successione di note messe in ordine secondo un ordine prestabilito e quest'ordine è deciso dalla successione di toni e semitoni. Ad esempio una scala maggiore ha quest'ordine di toni e semitoni. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Andiamolo a suonare. Allora, ti suono prima la scala per intero. Questa è la scala maggiore di do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ok. Andiamo a vedere adesso le distanze in termini di toni e semitoni. Fra do e re c'è un tono, vedi? Due passettini. Fra re e mi c'è un tono, due passettini, vedi? Fra mi e fa c'è un semitono, niente tasto nero. Fra fa e sol c'è un tono, fra sol e la c'è un tono, fra la e si c'è un tono, fra si e do niente tasto nero, quindi c'è un semitono. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Seguendo questo schema vado a costruire la mia scala maggiore. Questa poi si ripete di ottava in ottava sempre uguale. Ok? Quindi ogni scala ha una sua organizzazione di toni e semitoni prestabilita. Se cambi l'ordine di toni e semitoni, cambi il suono della scala. Vorrei farti un esempio un po' più difficile, provare a costruire insieme a te la scala di sol maggiore. Prova anche tu quindi a farlo con me. Mettiamoci sul piano. Abbiamo detto che lo schema da rispettare è tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Quindi iniziamo da sol e facciamo un salto di un tono. Sol, la, ci siamo. Poi dobbiamo fare un altro salto di un tono. La, si, ci siamo. Adesso abbiamo un salto di un semitono. Si, do. Non c'è il tasto nero, quindi siamo perfettamente in regola. Ora abbiamo ancora tre toni da fare. Tra do e re c'è un tono, ci siamo. Fra re e mi c'è un tono, ci siamo. Ora fra mi e fa però c'è un semitono, non ci siamo. Come la risolvo? Devo mettere il diesis. Fra da mi vado a fa diesis. Vedi? Mi rimane un semitono. Tra fa diesis e sol c'è un semitono. Ho costruito la scala di sol, sentiamola. Bene, quindi aggiungendo il diesis al fa rispetto lo schema tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Non lo posso suonare il sol maggiore, non posso suonare la scala di sol maggiore senza questa alterazione. Quindi per suonare una scala maggiore devo rispettare sempre questo schema. tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. E lo faccio inserendo diesis e bemolle all'occorrenza per allontanare o avvicinare le note a seconda dell'intervallo che devo compiere, del salto che devo compiere, se di tono o di semitono. Allora, come hai visto, nella costruzione delle scale maggiori e minori, diesis e bemolle trovano veramente un motivo, una ragione di essere. Questi segni grafici, chiamati alterazioni, vanno posti di solito accanto alla chiave di violino, all'inizio del pentagramma, per creare quella che si chiama armatura di chiave. Questa armatura di chiave ti indica quali note devi suonare diesis o bemolle per non incorrere in un errore. Facciamo un esempio. Diciamo che sto suonando il re maggiore. Quindi in armatura di chiave avrò fa diesis e do diesis. Così torna tutto. Se io invece sbagliassi e queste note le suonassi senza i diesis, senti come suona tutto stonato? Quindi è molto importante rispettare l'armatura di chiave, stare attenti all'inizio del brano o della scala a quali note vanno suonate con i diesis e quali con i bemolle. Allora abbiamo visto la scala maggiore che ha un suono brillante, solare, gioioso e la puoi utilizzare o la senti utilizzata in musica appunto solare, felice, ok? Non è sempre così ma insomma è molto frequente. Questa scala ha chiaramente un controaltare in musica, una scala meno brillante, in realtà un gruppo di scale chiamate scale minori. Oggi vediamo la scala minore naturale che è più scura, più triste, più austera. Te la suono? Ok? Come senti è parecchio più triste, va bene? Non è un male e un bene. Con questa scala si aggiunge un colore al tuo linguaggio musicale, quindi puoi creare dei momenti felici con la scala maggiore e dei momenti più austeri, più tristi con la scala minore. Questo si fa molto spesso quando sei un compositore di colonne sonore e lo fai con una certa frequenza per descrivere un cambiamento di paesaggio, d'ambiente, di intenzione del protagonista, ok? Allora abbiamo detto che ogni scala per avere il suo caratteristico suono deve rispettare una successione di toni e semitoni. La scala minore naturale ha questa successione, segnatela così poi magari ti provi, è questa qui. Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. La ripeto. Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono, tono. Andiamola a vedere sulla tastiera, ok? Allora, fra la e si abbiamo un tono, vedi che c'è il tasto nero? Fra si e do c'è un semitono, niente tasto nero. Fra do e re c'è un tono, fra re e mi c'è un tono, fra mi e fa c'è un semitono, vedi niente tasto nero? Fra fa e sol c'è un tono, fra sol e la c'è un tono. Quindi tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono, tono. Bene. Ora vorrei farti vedere una cosa interessante, una cosa curiosa. Suonando la scala di do maggiore, vedi tutti i tasti bianchi? Suonando la scala di la minore, abbiamo tutti i tasti bianchi. Quindi come sta questa faccenda? Come faccio a capire quando sto suonando in do maggiore o quando sto suonando in la minore? Allora, come per i colori, ogni scala maggiore c'ha una sua scala relativa minore. Il colore c'ha il complementare, le scale musicali c'hanno la scala minore naturale, ok? Quindi do maggiore c'ha la minore naturale e le puoi usare contemporaneamente senza problemi. E quindi sta così questa faccenda. Ogni scala maggiore c'ha una sua scala relativa minore. Sol maggiore c'avrà mi minore, fa maggiore c'ha un re minore e via dicendo, ok? Allora spero che ti sia tutto chiaro, di essermi espresso in maniera sufficientemente comprensibile fino ad ora. Se così non fosse scrivi la tua domanda qui sotto e ti risponderò appena possibile. Andiamo a vedere adesso l'argomento degli intervalli. Che cos'è un intervallo? L'intervallo è un modo di calcolare la distanza che c'è fra due note. Ti faccio un esempio. Mettiamoci sul do e suoniamo un'altra nota a caso. la. Qual è l'intervallo fra do e la? Che distanza c'è? Contiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi fra do e la c'è una sesta. Facciamo un altro esempio. Mettiamoci sul re, suoniamo fa. Che intervallo è? Contiamo 1, 2, 3. Fra re e fa c'è una terza. Quindi esistono intervalli di seconda, terza, quarta, quinta, sesta, ottava, si arriva fino alla tredicesima. Devi sapere che però gli intervalli possono, oltre che avere una distanza, avere anche un modo, come le scale. Cioè possono essere maggiori, minori, aumentare, diminuiti, eccetera. Ad esempio un intervallo maggiore suonerà brillante, gioioso. Un intervallo minore, come le scale i minori, suonerà più triste, più cupo. Questo modo si calcola grazie ai toni e ai semitoni che compongono gli intervalli. C'è uno schema da imparare a memoria. Purtroppo non c'è alternativa. Ti faccio un esempio. Diciamo di voler costruire un intervallo di terza maggiore. Quindi per prima cosa devo costruire l'intervallo di terza. Mi metto su do e conto 1, 2, 3. Ok? Questo è un intervallo di terza. Do, re, mi. 1, 2, 3. Sono tre note. Ora, la regola dice che l'intervallo di terza maggiore, uno deve suonare gioioso, brillante, e ci siamo. E deve essere composto da due toni. Contiamoli. Tra do e re c'è un tono, tra re e mi c'è un tono. Un tono più un tono fa due toni. Questo è un intervallo di terza maggiore che suona brillante. Ora dobbiamo costruire un intervallo di terza minore. Deve essere cupo, ascoltiamolo, più triste. Senti? E la regola dice, per essere sicuri, che deve essere composto da un tono più un semitono. Contiamo. Allora, tra re e mi c'è un tono e ci siamo. Fra mi e fa c'è un semitono. Quindi, un tono e mezzo. Re e fa è un intervallo di terza minore. 1, 2, 3. Una distanza di tre note. E una distanza in termini di toni e semitoni di un tono e mezzo. È un intervallo di terza minore. Ascolta un momento la differenza fra intervallo maggiore, terza maggiore e terza minore. Senti quanto cambia? Questi vanno imparati a memoria. Cioè, il numero di toni e semitoni che costituiscono un intervallo di terza maggiore, quinta aumentata, vanno imparati a memoria. Ok? Sento palesarsi nella tua mente il dubbione. Cioè, ma perché questa cosa degli intervalli funziona così? Perché una terza maggiore si costruisce con due toni invece che due e mezzo? Purtroppo questa cosa la devi prendere così com'è. Nel senso, un po' come funziona il sistema solare. Perché la Terra orbita intorno al Sole e non viceversa? È così e basta. È una legge intrinseca dell'universo. È uguale. Questa questione degli intervalli e della distanza fra di loro e del modo maggiore e minore è una cosa intrinseca al sistema temperato, che è un modello matematico su cui si basa la musica come la concepiamo noi oggi. Quindi purtroppo l'unico modo per imparare a memoria e capire bene questa cosa degli intervalli maggiori, minori e della loro distanza è scaricare lo schema che ti metto al link in descrizione. e studiarlo a memoria. È importante imparare gli intervalli a memoria perché a mezzo degli intervalli andiamo a costruire gli accordi. Un accordo è un insieme di una, due, tre o più note messe insieme in accordo fra di loro. Questo è un accordo. Senti che c'è accordo e piacevole all'ascolto? Ok? Gli accordi messi in successione, cioè due o più accordi messi uno dietro l'altro, vanno a creare una base armonica su cui un cantante potrà eseguire una melodia o un solista. Ti faccio un esempio di successione di accordi. Quindi questa è una successione di accordi su cui poi tu potrai cantare o fare una solo. Andiamo a costruire un accordo nel modo più empirico possibile, cioè basandoci solo sulla pratica immediata. Devi sapere che gli accordi possono essere maggiori o minori, esattamente come le scale o gli intervalli. Costruiamo ad esempio un accordo maggiore, il Do maggiore. Per iniziare non faccio altro che mettermi sul Do e poi faccio una nota Si e una No. Quindi Si, No, Di, No, Si. Hai costruito un Do maggiore. Ok? Ci possiamo mettere un basso, il basso di Do. Due bassi a ottava. Ok? Quindi per iniziare puoi provare a costruire diversi accordi in questo modo. Usi diverse fondamentali. Ora abbiamo fatto da Do ma puoi provare a mettere Fa e fai una Si, una No, una Si, una No, una Si. E questo ancora è un altro accordo. Torniamo al nostro Do maggiore. Allora facciamo un'analisi più profonda parlando di intervalli perché poi gli accordi vedrai che più avanti si complicheranno nel tuo studio e dovrai per forza applicare gli intervalli. Un accordo maggiore si costruisce sovrapponendo un intervallo di terza maggiore a un intervallo di terza minore. Ok? Quindi si devono incastrare due intervalli, uno maggiore e uno minore per creare un accordo maggiore. Te lo faccio vedere. Diciamo di fare Do maggiore. Allora, dobbiamo prima trovare un intervallo di terza maggiore. Come Do insegnato devi prima contare fino a 3. Quindi da Do, 1, 2 e 3. Quindi la terza di Do è Mi. Ok? Ora dobbiamo definire se è maggiore o minore. La regola dice che l'intervallo maggiore di terza è composto da due toni. Controlliamo. Da Do a Re un tono, da Re a Mi due toni. Do a Mi è un intervallo di terza maggiore. Ci siamo. Dobbiamo sovrapporre ora a questo intervallo una terza minore. Partiamo da Mi. Quindi prima contiamo la terza, quindi tre note. 1, 2, 3. Mi, Sol. Ok? Mi, Sol è una terza. Mi, Fa, Sol. Ci siamo. Adesso dobbiamo contare toni e semitoni. La regola dice che un intervallo di terza minore è costituito da un tono più un semitono, quindi un tono e mezzo. Allora abbiamo Mi, Fa è un semitono. Ok? Fa, Sol è un tono. Quindi un semitono più un tono fa un tono e mezzo. Ci siamo. Quindi mettendoli uno sull'altro terza maggiore. Terza minore. Ci abbiamo un accordo maggiore. Do maggiore. Puoi costruirne quante I ne vuoi così. Per iniziare però, come ti ho detto, puoi provare a fare una nota si e una no. Una si, una no. Una si, una no. E poi la sposti. Se sei bravo puoi provare a mettere i bassi. Se fai do, metti il basso di do. Se fai re, basso di re. In questa sequenza con tutti i tasti bianchi si mischiano accordi maggiori, minori, diminuiti. Ma ora a te non interessa. Devi solo fare un po' di pratica. Ok? Allora vorrei concludere questo incredibile parabolico evento che ci ha portato ad affrontare tutta la teoria musicale in un solo incontro mostrandoti lo schema degli schemi. Il circolo delle quinte. Questo schema ti indica tutte le alterazioni per tutte le scale maggiori e minori. Allora, partendo dal do e andando verso destra, il cerchio esterno ti indica le scale maggiori con i diesis. Dal do verso sinistra, il cerchio esterno ti indica le scale maggiori con i bemolle. Il cerchio interno ti indica tutte le scale minori, invece, con i relativi diesis e bemolle. Quindi come funziona? Diciamo di decidere una tonalità. Prendiamo il re. Vedi che il re segnala due alterazioni, fa diesis e do diesis. Quindi che faccio? Parto da re e mi suono la mia scala. Allora, re, mi, fa deve essere diesis, sol, la, si, do deve essere diesis, do diesis, re. Niente di più facile. Non solo. Per ogni nota della scala che abbiamo appena visto puoi costruirti anche gli accordi. Come? Rispettando le alterazioni e usando la sensibile e mirabile tecnica del una nota sì, una nota no. Guarda. Allora, mi metto sul re, una nota sì, poi mi sarà la nota no, fa sarà la nota sì, ma devo suonare fa diesis perché ho l'alterazione. Sol sarà la nota no, la nota sì. Eccolo qua. Re, fa diesis, la. Proviamo a fare un altro accordo. Con le alterazioni della scala di re, fa diesis e do diesis, mi metto su la, la la nota sì. Si non lo suono, la nota dopo dovrebbe essere do, ma in re maggiore ciò do diesis. Quindi do diesis, re la nota no, mi la nota sì. Lo puoi fare per ogni nota della scala, di tutte le scale, rispettando sempre le alterazioni. Ok? Ed eccoci quindi alla fine del video. Spero che questa trattazione ti sia stata utile, di averti chiarito dei dubbi, di essere stato sufficientemente chiaro e in ogni caso di aver fissato nella tua memoria gli argomenti che abbiamo trattato oggi. Capisco che c'è ancora molto da dire, ci sarebbe molto da approfondire, ma siccome non si tratta di fare un'operazione a cuore aperto, non è così difficile, puoi usare questo video come indice e, argomento per argomento, andare ad approfondire le cose che abbiamo detto. Vedrai che insistendo, imparando qualcosina a memoria, la logica che c'è dietro al linguaggio musicale ti sembrerà sempre più chiara e ne diventerai padrone. Io sono sicuro che tu la possa fare in autonomia questa cosa, perché l'argomento si presta. Allora, se l'argomento ti è piaciuto, se il video è stato di tuo gradimento, mettimi un like, iscriviti al canale e premi sulla campanella. Se hai dei dubbi, se qualcosa non è stato spiegato in maniera sufficientemente chiara, scrivimi qua sotto. Puoi anche suggerirmi l'argomento di un prossimo video, un argomento che magari hai a cuore. Ti ringrazio e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!